La giornata internazionale per l'eliminazione di ogni tipo di violenza sulle donne ed è proprio su questo argomento che decide di dedicare la sua apertura il Corriere della Sera. Andiamo subito a vedere la prima pagina. Nel riquadro centrale vedete una foto composta dalle piccole fotografie di tutte le donne che sono state uccise nel 2012 perché è il 2012 l'anno nel quale sono state uccise più donne addirittura 599 contro le circa 130 del 2016 quindi una diminuzione del fenomeno che rimane comunque allarmante quindi 25 novembre giorno contro la violenza sulle donne questo non è amore di Luisa bronzato l'altra notte hanno strangolato Elisabeth poi c'è Anna coltellata Angela bruciata viva Giada e Martina ammazzate con la madre Rosanna è accaduto solo nel mese di novembre nella foto appunto le 599 donne uccise in Italia nel 2012. Poi naturalmente un focus su quello che sta succedendo nella parte nord-occidentale del paese alluvioni sfollati, straripano i fiumi e come nel 1994 allerta in Piemonte e Liguria stato di calamità le opere di difesa ma stavolta eravamo pronti ogni striscia sulla parete dell'atrio corrisponde una pazzia del fiume quella più in alto indica il livello raggiunto nel 1886 quando il paese venne cancellato in basso c'è il 2009 e poi il 1948 e rendiamo un attimo la foto per vedere una delle tante immagini che in questi giorni sono state mandate in onda dai telegiornali e dai rotocalchi in cubo alluvione in Piemonte il Tanaro è straripato emergenza nel Cuneese come nel 1994 in Liguria disperso un pescatore e poi si parla ancora naturalmente di referendum il entrato a gamba tesa in qualche modo l'economist il settimanale britannico si è schierato a favore del no l'economist attacca Renzi il decreto fiscale e legge il referendum il settimanale per il no BCE possibili interventi una dimostrazione un'esternazione che non è piaciuta particolarmente al presidente del Consiglio se l'Europa sta alla finestra di Massimo Franco l'economist sdrammatizza il risultato del referendum sembra schierarsi per il no e usa toni duri con il premier Renzi non va sopravvalutato così come non va amplificato l'allarme che altre testate occidentali hanno lanciato in caso di sconfitta del sì semmai la dimostrazione che oltre confine sta prevalendo una lettura più distaccata di quanto potrà accadere sullo scenario politico l'Europa sta alla finestra e continuiamo le città le campagne torna la frontiera ci racconta Beppe Severgnini cosa racconta la mappa del voto in USA e in Gran Bretagna aree urbane lontane dai populismi e poi Europarlamento stoppa i negoziati con la Turchia misure repressive sproporzionate del regime del presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo il fallito colpo di Stato l'Europarlamento congela le trattative per l'ingresso di Ankara nell'Unione Europea e poi un fatto che si è verificato qualche tempo fa Shalabaeva fu sequestro per IPM di Perugia sette poliziotti tra cui il capo dello scon giudice di pace tra i diplomatici kazaki sono colpevoli del sequestro di Alma Shalabaeva moglie del dissidente Ablyazov e della figlia e ancora andiamo avanti con il Corriere della Sera che dedica un ampio spazio all'articolo di Sergio Rizzo Roma è il futuro a chi giova la capitale bloccata negli ultimi dieci anni Milano ha avuto uno sviluppo senza precedenti anche per il coraggio di scelte urbanistiche capaci di incidere profondamente sulla stessa immagine della città sul bilancio dell'Expo 2015 e il futuro di quell'area si potrà discutere ancora a lungo e viene paragonata questa situazione in qualche modo al momento di stallo che sta attraversando la capitale l'esatto contrario rispetto a Roma dove regna la paralisi la linea C della metropolitana si fermerà al Colosseo anziché proseguire come era previsto attraverso il centro attualmente la talpa non è nel sottosuolo e gli scavi sono fermi fermi sono anche il progetto dello stadio della Roma Calcio il discusso piano immobiliare che lo accompagna l'attuale amministrazione comunale ha sollevato pesanti osservazioni e la soprintendenza ha posto condizioni insormontabili per il prosieguo dell'iniziativa andiamo avanti e cambiamo testata non prima di ricordare il lutto che c'è stato nel mondo della letteratura è morto lo scrittore e critico Vittorio Sermonti addio a Vittorio Sermonti è stato a voce di Dante andiamo avanti con la Repubblica anche la Repubblica decide di dedicare la sua apertura alla serie di alluvioni e allagamenti che stanno falcidiando in queste ore il nord ovest soprattutto Piemonte e Liguria dove il terreno è già arrivato oltre il livello di saturazione vediamo nella foto l'esondazione del torrente Maremola a Pietra Ligure il clima impazzito spacca il paese in due Piemonte e Liguria l'incubo dei fiumi ieri con l'alluvione in Piemonte e Liguria sono tornate in mente a chi li ha vissute la esondazione della pioggia battente del 94 quando l'acqua si trascinò dietro case ponti e vite umane il sistema di protezione civile finora ha funzionato ma la paura resta tanta come in 22 anni fa è stato il Tanaro a esondare per primo dividendo in due Garessio città diventata il simbolo del Piemonte sott'acqua il reportaggio i sommersi del Tanaro di Mario Crosetti Garessio in provincia di Cuneo una delle città più colpite ruggisce il fango sotto le arcate dei ponti rossi in Valle Tanaro il cielo è caduto ed è un cielo d'acqua e poi naturalmente la notizia che arriva dall'Inghilterra dall'Economist una spinta al Norenzi non ci sta risponde poteri forti UE per il governo tecnico Marchionne con il Premier resista quattro scenari per il dopo di Michele Ainis se invece questo referendum non fosse un finimondo se il 5 dicembre scoprissimo che non è cambiato nulla gettiamo in un cestino gli ansiolitici proviamo a spalancare gli occhi e gli scenari e sugli scenari che ci attendono che sono quattro come le stagioni e vediamo la vignetta di Altan non dico come voto non voglio rovinarmi la sorpresa è la la vignetta del giorno dell'illustratore del famoso illustratore di Repubblica nel cantiere di Robinson sulla nuova isola di carta delle culture il viaggio di uno scrittore dentro la squadra di Repubblica che crea l'inserto della Domenica il nuovo inserto che si chiamerà Robinson che potrete trovare in edicola tutte le domeniche e poi contro la violenza sulle donne Boldrini mette online il nome dei sessisti un'iniziativa in qualche modo destinata a far discutere e sul web che si combatte una delle battaglie contro il sessismo per questo nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne Laura Boldrini decide di rendere pubblici i nomi di chi perseguita lei e altre sul web oggi la Presidente della Camera pubblica sulla sua pagina Facebook una selezione degli insulti che ha ricevuto da quando è a Montecitorio senza omettere gli autori delle violenze verbali Boldrini spiega così la denuncia non dobbiamo essere noi donne a vergognarci ma gli individui squallidi che ci insultano cambiamo ancora testata e chiudiamo con il giornale economico della Confindustria che affronta gli stessi argomenti con un taglio prettamente economico andiamo sul sole 24 ore dirigenti a tempo e gare le nuove regole per la pubblica amministrazione addio graduale al posto fisso ma è battaglia sulla tutela dei vertici attuali il Consiglio dei Ministri ha varato ieri altri 5 decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione si va dall'addio graduale al posto fisso per i dirigenti alla concorrenza nei trasporti locali e poi passi avanti nella semplificazione con l'approvazione di altri 5 decreti attuativi della legge Madia siamo così a 16 su 20 previsti si compie un altro passo avanti nella ultradecennale battaglia per semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione i cittadini e le imprese e poi un altro nodo economico che sta facendo tenere in qualche modo il fiato sospeso la ricapitalizzazione fino a 5 miliardi al via il 7-8 dicembre Falciai nominato presidente stiamo parlando del monte dei Paschi di Siena si dei soci al maxi aumento l'assemblea dei soci MPS ha approvato l'aumento di capitale di 5 miliardi una parte attraverso la conversione di bond subordinati in nuove azioni e il resto in contanti Falciai presidente e poi il riassetto di Siena dopo l'assemblea l'unico piano B e l'intervento dello Stato la scelta la conversione dei bond appesa agli hedge e l'analisi l'azionariato solido non è più un optional e poi da Bruxelles a Berlino la discesa in campo di Schultz pronto a sfidare Angela Merkel e anche il solo 24 ore fa un accenno in qualche modo a quello che sta succedendo in Piemonte e Luguri all'està maltempo Ferrero e Magneti Marelli si fermano anche le scuole sono rimaste chiuse nella giornata di oggi l'economist per il non la replica di Renzi governo tecnico non ci starò mai questa è stata la risposta alla provocazione del giornale economico inglese e concludiamo con le sfide dell'economia l'effetto Trump e la lezione degli anni 30 e l'approfondimento di Gianni Toniolo con legittima soddisfazione Angela Merkel ricorda ai tedeschi che le cose in patria non sono mai andate tanto bene almeno sul piano economico lo stesso potrebbe dire un leader mondiale Donald Trump che a questa leadership non sembra aspirare arriva alla Casa Bianca in un momento economico fortunato sia negli Stati Uniti che nella maggior parte del pianeta lo shock del settembre 2008 una ripresa delle economie avanzate sotto le attese che hanno prodotto speculazioni su un possibile ristagno secolare analogo a quello del 1938 caratterizzato da rapido progresso tecnico e robusta dinamica degli investimenti del reddito e andiamo avanti e proseguiamo con i giornali locali si parla soprattutto del del fare che ha interessato il Movimento 5 Stelle con le firme false da Bologna a Palermo però i componenti del movimento pentastellato sono mobilitati in tutto il paese dalle firme false del cyberfango una campagna d'odio si scopre che l'ultima grillina del web è in realtà la moglie di Brunetta molti consiglieri regionali temendo di perdere soldini fanno passaparola per il no e approfondiamo l'attacco di questo articolo un'altra grana per i 5 Stelle dopo la firmopoli per le amministrative di Palermo 2012 partita da un'inchiesta TV delle Iene esisterebbe il sospetto secondo quanto affermato da fonti PD che anche la presentazione delle liste per le regionali dello stesso anno sia stata inquinata da falsificazioni a Palermo finora indagati 10 5 Stelle 4 a Bologna sempre per firme false che si riferiscono alle regionali del 2014 si è intanto autodenunciata Beatrice Di Maio al centro del cyberfango dei giorni scorsi e Tommaso Giovannonio Ottaviani moglie del capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta si spacciava per grillina e attaccava i rivali del marito starebbe infine emergendo con molti consiglieri regionali temendo il taglio dello stipendio spingano per il no e al centro vediamo una foto che riguarda la cosiddetta guerra dei supermercati nessun impatto sul traffico il comune ha autorizzato una via definitiva l'apertura della nuova attività commerciale Catanzaro i vigili e lo studio a vista lo studio dei vigili urbani sul traffico in via Lombardi fatto a vista è quello della società privata eseguito con metodo scientifico il comune di Catanzaro premia il secondo sul mancato impatto negativo si basa l'autorizzazione per il nuovo supermercato che sarà costruito in via Lombardi e poi richiami in prima pagina Crotone aeroporto la sagas riammessa alla gara anche questa è un'altra questione che sta tenendo con il fiato sospeso tutti i calabresi i nicoteri inviati al comune i commissari antimafia anche questa è una storia che ha radici molto che affondano molto in profondità in tutto il mondo contro lo stalking dalla parte delle donne giornata internazionale oggi contro la vienzo sulle donne 3 milioni 466 mila le italiane che hanno subito stalking nella loro vita poi una notizia che arriva da lontano che riguarda una nostra connazionale un assassino un femminicidio poi a me l'assassino confessa dal Brasile un vicino con precedenti di droga della ragusana uccisa ci sono anche due indagati nella città siciliana fiaccolata con 500 persone e vediamo ancora se c'è qualche argomento che riguarda la nostra regione si parla ancora dei 5 decreti della riforma Madia che andranno a toccare in qualche modo anche noi naturalmente nuovo contratto per gli statali aumento di 85 euro per i dipendenti pubblici naturalmente preoccupazione arriva dai sindacati in particolare dalla CISL una verifica la ministra si sbrighi e andiamo a vedere le altre edizioni della Gazzetta del Sud vediamo quella di Cosenza che si sofferma no andiamo avanti con scusate con la l'edizione di Reggio con l'edizione di Reggio dalle firme false al cyberfango ma soprattutto una notizia che ieri si è diffusa su tutti i mezzi e ha portato grande sdegno quella che riguarda i presunti maltrattamenti di alcuni bambini in un asilo di Reggio Calabria due maestre della scuola materna agli arresti domiciliari i bimbi maltrattati in classe quello che sarebbe successo in queste scuole ve lo raccontiamo in questo servizio hanno maltrattato i bimbi loro affidati per diverso tempo poi la madre di due bambine preoccupata per il cambiamento d'umore e il comportamento delle figlie ha fatto scattare l'allarme un timore rivelatosi fondato alla scuola dell'infanzia due maestre usavano violenza sui piccoli alunni così nella tarda serata di ieri gli uomini del comando provinciale della guardia di finanza di reggio calabria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di RG 61 anni e di G 37 anni accusate di maltrattamenti aggravati e continuati nei confronti di minori di 6 anni loro affidati tutto parte dall'intuito di una madre che comprende il livello di malessere delle sue figlie si rivolge ai finanzieri che sotto il coordinamento del procuratore capo Federico Caffiero De Rao del procuratore aggiunto Gerardo Dominiani e del sostituto Teodoro Catananti decidono di installare delle telecamere dei dispositivi di registrazione ambientali all'interno dell'aula dove si ipotizza avvengano le violenze una mossa azzeccata dato che le registrazioni audio video confermano pienamente i maltrattamenti subiti dai piccoli alunni dopo l'esecuzione dell'ordinanza firmata dal GIP Adriana Trapani le due donne sono state poste agli arresti domiciliari consolato Minniti per la CNews 24 e torniamo alla Gazzetta del Sud andiamo sull'edizione di Reggio dove si parla dei bambini nella villa del Pentito un bene confiscato affidato alla diocesi nella foto vediamo in primo piano il prefetto Michele Di Bari e il sindaco Salvatore Fuda la villa con giardino confiscata al Pentito di Indrangheta Antonio Femia sarà un centro di aggregazione per bambini ragazzi adolescenti e famiglie ieri mattina si è svolta la cerimonia di consegna da parte del sindaco Salvatore Fuda e al vescovo Monsignor Francesco Oliva poi i richiami in prima pagina delle notizie di cronaca un 42enne precipita dal Ponteggio e muore e poi a Gioia Tauro ladri in azione prese di mira due scuole cambiamo ancora edizione andiamo sul questa volta sul quotidiano della Calabria partiamo con l'edizione di Cosenza che approfondisce appunto questo tema del quale vi abbiamo appena dato un approfondimento le violenze all'interno di un asilo di Reggio riprese della finanza nella scuola per l'infanzia del rione Comi arrestate le maestre dell'orrore calci schiaffi spinte e vessazioni lungo incubo vissuto dai bambini dell'asilo le indagini avviate dopo la denuncia di una mamma ce ne ci raccontava Consolato Minniti nel servizio che avete appena ascoltato calci schiaffi e umiliazioni due maestre dell'asilo sono state arrestate a Reggio per le violenze sui bimbi ripresi dalle telecamere e poi controlli ufficiali un'altra situazione che stava in qualche modo preoccupando i calabresi soprattutto dopo il servizio andato in onda nell'ultima puntata delle Iene martedì scorso stiamo parlando di Cala Lunga quindi nella zona di Montauro nell'oione soveratese sollievo Cala Lunga radioattività normale l'ASP non ci sono anomalie neanche per i casi di tumore controlli ufficiali dunque dei quali vi diamo conto pienamente in questo servizio nessuna situazione di rischio per la salute pubblica è quanto emerso al termine di una riunione convocata dal prefetto di Catanzaro Luisa Latella in prefettura con il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'esame della problematica emersa a seguito della trasmissione televisiva di qualche giorno fa le Iene sulla possibile presenza di sostanze pericolose e radioattive in alcune aree dell'uionio catanzarese in particolare sulla spiaggia di Cala Lunga di Montauro è tornato quest'oggi sulle spiagge calabresi l'inviato Giulio Golia con le sue telecamere a raggiungerlo diversi cittadini e rappresentanti delle istituzioni tra questi il consigliere provinciale di Catanzaro Marco Polimeni e il presidente di Confindustria Catanzaro e il presidente dell'associazione La Calabria Cherema Daniele Rossi contemporaneamente il comandante provinciale dei vigili del fuoco riferiva che dagli accertamenti effettuati non sono stati evidenziati i parametri al di fuori della norma mentre il commissario dell'ARPACAL ha fatto presente che la vicenda riportata dalla trasmissione televisiva era stata oggetto di diverse verifiche nel corso degli anni 1995 1996 e 2002 il direttore generale dell'azienda sanitaria ha sottolineato che dai dati contenuti nel registro tumori non emergono situazioni di allerta dall'incontro non sono venute fuori quindi situazioni di rischio per la salute pubblica si è tuttavia concordato di proseguire nelle verifiche che saranno effettuate congiuntamente da ARPACAL ASP vigili del fuoco e carabinieri del NOE e riguarderanno un'ampia fascia della zona ionica catanzarese gli esiti delle verifiche saranno immediatamente resi pubblici Rossella Galati per la CNews24 andiamo avanti parliamo questa volta di sanità la svolta cambia la norma del 2015 i presidenti delle regioni potranno gestire il piano di rientro si fa così strada l'ipotesi Oliverio che conquista la sanità sarà lui il commissario Castrovillari incidenti stradali inventati processo per quattro indagati per il reato di truffa il caso uguale la descrizione del bandito fatto dai testimoni presenti a Rende Cosenza si parla del doppio colpo del rapinatorio solitario volto travisato e coltello in mano ha assalito un centro scommesse e una sala giochi andiamo a vedere ora le altre testate in particolare le cronache delle Calabrie vediamo che l'apertura è diversa si parla della bancarotta del Papa Giovanni Don Alfredo Ruberto condannato in appello e ancora Calcio e Botte ai bambini arrestate due maestre abbiamo appena trattato questo argomento ma c'è ancora altro il premio Sila a Luciana Castellina fra libri e diritti negati poi la furbata di occhiuto i soldi dell'alto tirreno tappano le buche a Cosenza Canile Laghera a Mendicino scatta l'esposto in procura e poi trasporti il ponte di Celico chiuso per 20 giorni a San Ferdinando un'altra tendopoli ospiterà i migranti e chiudiamo con la provincia di Cosenza bando aeroporti si riaprono i giochi anche questa è una notizia che è stata riportata anche sulle altre testate poi rifiuti operazione della DIA ad Amanteo un sequestro da 8 milioni di euro nell'area del tirreno Aieta rientra nel PD sperando che Oliverio in qualche modo gli dia una mano e poi Ionio il comune è ostaggio della burocrazia ponte di Celico vertice in prefettura sarà monitorato 24 ore su 24 allacciate le cinture il Tar riammette la Sogas in precedenza esclusa dall'Enax per lo scalo di Crotone potrebbe tornare in partita anche IG che chiede l'eliminazione di Sacal Palazzo dei Bruzzi in 6 chiedono il rimpasto lunedì consiglio sui debiti e poi la salute prima di tutto ricerca oncologica e cura sinergia tra l'istituto di Veronesi e I Greco e con questa notizia chiudiamo l'appuntamento con la lettura la prima lettura delle notizie della giornata vi diamo appuntamento con il telegiornale alle ore 14 approfondiremo molti degli argomenti trattati in questo spazio informativo io vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento con la prossima edizione del telegiornale vi auguro un buon proseguimento di giornata visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia la cnews mattina da lunedì a sabato alle ore 7 domenica ore 8 i calabresi sono informati che fa notizia che fa notizia che fa notizia